La descrizione di Hans è estremamente difficile. Lui non faceva altro che lavorare. Vedeva al di là dell'aspetto apparente delle cose. Dal suo romanzo Ombre Bianche è stato fatto quel film con Anthony Quinn molto noto. Mondadori fece addirittura un'edizione scolastica. Cioè come lui è stato un giovane fortunato che si è dedicato alle corse, così diventa, anche se lui non lo sa ancora, un grande autore di libri. Questo libro lo scrive, lo scrive in tedesco, viene pubblicato, si chiama Gladiatorren. Bello, abbastanza abbiente, scrittore di fama, vendeva i soggetti cinematografici a Hollywood e poi ha piantato tutto, tutto per dedicarsi contro la bivisezione. Mi interessa, nacque il giorno che a Roma mi fecero vedere un gattino nero coperto di tremendi cicatrici e mi hanno detto che quello era stato da poco salvato da un laboratorio di vivisezione. Ho una scusa che facendo soffrire gli animali si trovano immancabilmente le origini delle malattie degli uomini. Grazie.